numeri da record per i contenuti di intermedia house dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia del club i contenuti realizzati con il supporto dell'agenzia creativa alchemy durante e dopo la festa hanno generato più di 26 milioni di impression con un engagement che ha spiorato il milione e mezzo di utenti i am scudetto è stato il concept scelto per celebrare i neocampioni d'italia ed è divenuto il fil rouge dello storytelling dei social del club da milano l'immagine celebrativa ha fatto il giro del mondo e il concept è stato appunto rimbalzato da piazza 25 aprile fino ai grattacieli della metropoli cinese chong king ed è stato protagonista di un light show realizzato appunto con i droni nel cielo di shanghai su weibu e dowin l'hashtag ha fatto registrare oltre 180 milioni di reeds il video hero ha totalizzato più di 5,8 milioni di impression e 400 mila interazioni a seguire è nato il canale twitch dell'inter che ha raccolto 14 mila follower in poche ore per oggi è tutto business sport 24 torna domani elisa mazzucchelli un saluto ciao ciao